amici bentornati sul canale dunque oggi siamo alla scrivania nuova del mio restyling dello studio e voglio parlare un po con voi ho fatto dei ritrovamenti non sono anche come ho fatto nella stanza giù dei vinili storici non so dove li ho comprati era una paccazzerano un centinaio di dischi poco più poco meno ora qui davanti ho il meglio dei camaleonti per i giovani non sapranno che sono camaleonti ma sono stati un gruppo è rimasto qualcuno se non erro storico degli anni 60 70 stava ascoltando mamma mia non credi di abba è mamma mia di camaleonti che è bellissima poi 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 ho fatto un'aggiunta alla scrivania che però però il dello studio tour verrà fatto in questi giorni perché ieri è venuto il mio amico giorgio volevamo mettere i pannelli buono assorbenti ma non se ne aveva voglia quindi abbiamo rimandato tutto ma sotto considerato mio amico ho portato dal lounge bar la mitica delorean che l'ho parcheggiata qui davanti dunque 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 veniamo a noi veniamo a noi ieri mi sono divertito tantissimo nel video siamo stati molto complici perché sul primo video che ci siamo incontrati quello del cialate per intendersi c'è stato un po' di imbarazzo con le prime volte che ci vedevamo quindi avevamo buttato giù qualche idea qualche progettino però poi causa lavoro mio siamo un po persi di vista ma ieri abbiamo rispolverato tutti i progetti dettagli collaborazioni perché ci saranno anche delle grandi collaborazioni abbiamo dato un po' di brio anche al mac con l'installazione di nuovi programmi delle chicche che ora mi sono messo qui intanto fuor video poi inizia a spippolarci un pochino per vedere se ci aprisco qualcosa lo studio è bellissimo non è che dico perché l'ho fatto io ma è bellissimo la scrivania qui non questa perché questa è nuova l'avevo già messa se non ero nel 2015 poi l'avevo riportata là davanti dove ora c'è un'altra cosa perché non mi piaceva però come mi ha detto giorgio così c'è la scrive entry c'è la scrivania qua poi c'è un'altra sedia da ufficio lì davanti dove ieri c'era giorgio che la ripresa era fatta il mobiletto qua più c'è il divanetto vi avevo dire c'è il divano per chi non ha visto video del restyling mi raccomando andateli a vedere sono 4-5 puntate se non erro sul 4-5 non me lo ricordo più ho messo nel tavolincino insomma è venuto bellino molto 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 elegante era quello che puntavo solo questa sedia e questo mobiletto che dove ho messo tutte le action cam cavi supporti per il cellulare gimbal ho messo tutto lì dentro per benino che poi li farò vedere non sono dell'ikea poi tutto quello che vedete dentro è l'ikea perché per noi che ci diventiamo no per noi youtuber me ci butta anch'io l'ikea offre tanto a prezzi diciamo ragionevoli c'è la roba è bellina costa poco poco costa il giusto per quello che non ci deve fare e io sono molto 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 contento di come mi è venuto lo studio poi ho portato i led il mac ma ha detto giorgio che tira bene anche wifi però se c'è la connessione col cavo è meglio quindi che ho fatto il modem l'ho laggiù ho tirato il cavo con la colla a caldo l'ho passato sopra lo zuccolino e fa giro e entra qua sono molto soddisfatto molto 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 ah non so se si vede mi sono tagliato capelli e la barba considerato che a lavorare e tu mi sembri un talebano e tu mi sembri moncici e tagliati la barba e tu sai che c'è mamma avete rotto coglioni andiamoci a tagliare capelli e la barba il video di timore lo fallo un gap però a tutti i giorni ti vinti vinti abbiamo fatto due coglioni così finito vamos con giorgio abbiamo intenzione di fare una picchettina per l'estate poi vi terremo aggiornati strada facendo di cosa sarà di cosa si tratta ora mi metto qua un mac o da modificare dei video questo prova a montarlo con il me che sarà difficile detto questo amici iscrivetevi al canale commentate condividete mettete un like che è importantissimo non mi dilungo più di tanto perché non vi voglio rompere i coglioni ci vediamo penso domani in un nuovo video mi raccomando commentate iscrivetevi mettete like condividete fate quello che cazzo vi pare ma l'importante è che mi seguite seguitemi anche su instagram donato trattino basso cecchi trattino basso blog buona continuazione e un saluto da lo studio che prossimamente ci sarà lo studio tour manca qualcosina e poi ci siamo eh ieri già serviste un pochino con l'altra prospettiva se siete curiosi andate a vedere il video di ieri e lo vedete detto questo amici io vi saluto vi auguro una buona continuazione domani e venerdì se dio vuole domenio mince la formula 1 quindi mi raccomando ferrari a tutto fuo io vi saluto e ci vediamo prossimamente e vi saluto Grazie a tutti